ingredienti dosi per 4 persone 400 grammi di tagliatelle prezzemolo peperoncino aglio scorza di limone parmigiano e olio d'oliva 150 grammi di specco pancetta affumicata e uova preparazione preparare un pesto a base di prezzemolo peperoncino e molto aglio aggiungere abbondante scorza di limone grattugiata un po di parmigiano e buon olio d'oliva per ogni persona preparare in una terrina un rosso d'uovo mettere in padella dello specco pancetta affumicata tagliati a cubetti e far rosolare nel frattempo cuocere la pasta a cottura ultimata unire spec e pasta aggiungere un cucchiaio per persona della salsa precedentemente preparata nella terrina con le uova mescolare bene in tutto e servire il piatto è pronto buon appetito